Siamo pronti per la serie numero 12. Confermato intanto il 54 e 12 di Baioni, poi 54 e 51 Coppari, quindi 53 e 43 Marcelli. Edoard Cristi Anghinea, poi Andrea Nandi, Luca Orciani, Matteo Gergo, Gregorio Zampini, Matteo Baldoni, protagonisti di questa serie numero 12. Luca Orciani, 26 e 13, il passaggio ai 200. Edoard Cristi Anghinea. 3,55 e 23. E adesso Francesca Semeraro entra in gara nel salto con l'asta a 3,55. Grazie. Grazie. Primo salto per Francesca Semeraro, 3,55. Atleta Tarantina, nata nel 1997. 8 volte campionese italiane in varie categorie giovanili. e va nettamente sopra in questo suo primo salto. Nel 2013 ha preso parte dei campionati mondiali allievi a Donetsk in Ucraina. Nel 2014 ha rappresentato l'Italia ai giochi olimpici europei disputati sia a Baku. Grazie. 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 Grazie.